Buonasera dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. In A1 verso Roma 6 km di coda tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello. Code per lavori in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna. In A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. In Fipili per lavori 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino verso Livorno e rallentamenti tra Empoli e Ginestra verso Firenze. Per questi lavori svincolo di Montelupo chiuso l'entrata in entrambe le direzioni in uscita provenendo da Firenze. Code in uscita alla Strassigna e in uscita a Ginestra Fiorentina entrambe provenendo da Firenze. Rallentamenti tra Cascina e Navacchio verso Pisa. In direzione Firenze 3 km di coda per lavori tra Lavoria e Ponte d'Era Ovest con sacco e traffico bloccato per un incidente al km 65 tra Navacchio e Cascina. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!